Do il benvenuto e buongiorno a Emilio Carelli, candidato al Movimento 5 Stelle, lo conoscete tutti, giornalista, televisivo, famoso, è stato direttore dell'ultima sua esperienza, è stato direttore del TG di Sky, e anzi è stato il debutto del TG di Sky, e ha fatto questa scelta, della quale adesso ci parlerà. Intanto do anche il buongiorno e il benvenuto a Lorenzo Pregliasco, come ogni venerdì, che è pronto lì con la super media, sono rimasti con noi Angela Mauro di Huffington Post e l'economista Nicola Rossi, che è in collegamento da Milano, buongiorno di nuovo. Allora, Carelli, vengo da lei, intanto sulla scelta personale, che cosa aveva votato fino adesso? E' una domanda che si può fare, comunque viene da Mediaset per tantissimi anni, è stato tra i fondatori dei programmi di informazione di allora, si chiamava Fininvest, insomma, di un rapporto con Berlusconi comunque. Vabbè, io ho avuto un rapporto professionale, nel senso che ho lavorato tanti anni a Mediaset, è stato tra i fondatori del TG5 insieme a Enrico Mentana, e penso che il TG5 che abbiamo fatto nel 92 sia stato comunque un telegiornale molto indipendente dalla politica e anche dall'editore, quindi abbiamo avuto tutto di grande libertà. Diciamo che l'avvicinamento al Movimento 5 Stelle dura già da diverso tempo, ho avuto un'occasione professionale di curare i rapporti istituzionali per Sky e sono venuto a contatto con i valori che già conoscevo, che già mi avevano, per così dire, anche affascinato e convinto, valori di onestà, onestà intellettuale, onestà morale, valori di trasparenza, valori di giustizia sociale, cioè noi stiamo vivendo una crisi economica, ne stiamo uscendo timidamente in questi ultimi anni, che però ha emarginato tantissime persone, ha chiedato molti disoccupati, ha chiedato problemi a tante famiglie che non arrivano a fine mese, ecco, le istanze, i valori del Movimento 5 Stelle di giustizia sociale tendono anche a includere queste persone, a dare una mano a queste persone e poi anche un discorso proprio di persone che ho incontrato nel Movimento. Diciamo che tutti questi valori, come anche la fine dei privilegi, della politica, li ho visti incarnati e realizzati da persone per bene, persone che ci mettono la passione, l'anima, che ci credono, persone con cui mi sono trovato bene in particolare e si è creato un rapporto vero. Con Davide Casaleggio? Con Davide Casaleggio, con Luigi Di Maio e con tanti altri, Alessandro Di Battista e poi veramente tanti militanti. Io anche, tra l'altro, in questi giorni di campagna elettorale, tutti i giorni vado nel mio collegio a incontrare la gente e ho scoperto una realtà che non conoscevo, cioè una partecipazione, quindi anche il valore della democrazia partecipata, una partecipazione di persone che stanno la sera, tre, quattro ore, a discutere dei problemi del loro quartiere, del loro collegio e a cercare insieme una soluzione. Quindi è questo lato del movimento, ma poi credo che Angela Mauro abbia delle domande, ma non c'è un tema di, come dire, di scarsa trasparenza da un lato del movimento, una figura appunto di Davide Casaleggio, dei rapporti della piattaforma Russo, che per statuto del Movimento 5 Stelle è, diciamo, plenipotenziaria di tutte le attività sulla rete, e però senza che ci sia un ruolo specifico. Cioè questo tema di mancanza di democrazia interna, così lei non... Do del tu perché... Cioè, da del tu sono stati colleghi in molti anni. ...rimane, se non so, però, una visione di colleghi come con altri ex colleghi. Non è una cosa che ti crea problemi? Io devo dire, vivendo in quest'ultimo anno, anche partecipando a riunioni e incontri, ho riscontrato esattamente i contrari. Innanzitutto c'è un capo politico del Movimento, che è Luigi Di Maio, e quindi le decisioni politiche e strategiche le prende lui. Ma chi è Davide Casaleggio? Davide Casaleggio gestisce una società che gestisce il blog delle stelle, che è il blog, che, diciamo così, è la piattaforma su cui vengono affrontati e trattati tutti i problemi e i programmi del Movimento, è anche una piattaforma di democrazia diretta. Quindi è una piattaforma che serve poi a tutti i partecipanti, gli aderenzi al Movimento, serve per esprimere il loro parere e il loro voto. Secondo te non ha problemi di opacità? Per esempio è servita tantissimo durante i mesi scorsi, durante l'estate, per la creazione del programma. Il programma, i 20 punti del programma per migliorare la qualità della vita degli italiani, è stato elaborato attraverso tutta una serie di discussioni. Ha funzionato forse con meno con le parlamentarie. È uno strumento di democrazia diretta, io non sono molto convinta che sia questo, lo dico ogni volta che vado in tv. Comunque non trova strano il fatto che ancora non si sappiano i dati delle famose parlamentarie. No, sono usciti i dati delle parlamentarie. Sono usciti, ma ci sono voluti due settimane di tempo, ci sono state tante polemiche, proprio nella base dei 5 Stelle. E a proposito anche dell'atteggiamento della base del dibattito interno che c'è, che si vede anche dai social, ecco, siccome lei parlava del capo politico Di Maio, abbiamo di fronte un movimento che prima diceva l'Europa no, addirittura ipotizzava un referendum sull'euro. Adesso Di Maio va alla Link University e dice l'Europa è la casa nostra, è casa nostra e casa anche per il Movimento 5 Stelle. Era nato come un movimento tutto fondato su ambientalismo, scelte di energia, fonti di energia rinnovabile, eccetera. Di nuovo Di Maio alla Link University, ma non solo lì. L'ENI è, insomma, l'abbiamo deciso, le nostre scelte strategiche, ha detto un giorno nel tema di energia, d'accordo, abbiamo discusso con Eni e Enel, ha difeso la presenza di Eni in Libia, dicendo lì c'è un interesse geostrategico. Ecco, c'è una torsione, mi consente il termine, un po' democristiana, diciamo, del leader dei 5 Stelle, rispetto a un movimento che era nato, almeno alle origini, era antisistema ed è come se Di Maio faccia una parte, questa parte di calmare un po', di ingraziarsi un po' le élite, Di Battista fa la parte della... Ora poi lo sentiamo, Di Battista. Secondo lei, da quello che vede dal di dentro, se mai andasse al governo, che cosa dobbiamo aspettarci? Perché a questo punto non è chiaro il messaggio politico che vogliono dare. No, allora, il problema di democrazia interna, io penso, anzi io sono molto contento, ci sono passate due settimane dal momento delle parlamentari al momento della pubblicazione dei risultati, con tutti i numeri. Perché questa è stata una tutela per tutti noi candidati. Cosa è successo? Che il movimento, questa volta, per la prima volta, ha voluto verificare uno per uno tutti i candidati, escludendo tutte quelle persone che in qualche modo nel passato avevano dimostrato, per esempio, di aver pubblicato dei post violenti, che incitavano all'odio razziale, che incitavano o difendevano la violenza contro le donne. Cioè, cito solo alcuni esempi. Quindi io penso che il fatto che si sia fatta una schrematura cercando di eliminare per quanto possibile tutti quei personaggi che in qualche modo speravano di usare le parlamentari o il movimento come traghetto per entrare in Parlamento e godere di alcuni benefici sia stato fatto a tutela di tutti noi e degli italiani in generale. Qualcuno di discutibile non l'avete eliminato, tipo De Sì, per esempio. A meno che per il movimento non sia discutibile. Però parliamo anche del caso De Sì, per esempio. Allora, noi abbiamo due schieramenti che sono il centrodestra e il Partito Democratico che hanno presentato nelle loro liste indagati, condannati, persone sotto processo, eccetera. De Sì, ok, moralmente non è corretto che una persona che ha un reddito elevato goda del privilegio di un affitto di 7 euro al mese. Però non è indagato, non è mai stato condannato. Però questo significa che tu... Però magari non è... No, io non lo sto giustificando, è sbagliato. Non è l'unico metro di giudizio da usare il fatto dell'avviso di garanzia. Però diciamo che De Sì è veramente una goccia nel mare magnum della corruzione e dei personaggi politici che sono in qualche modo coinvolto in inchieste giudiziarie. Io volevo chiederle questo, prima di passare agli altri temi. Solo sul governo, prego, no, no, prego, prego. Quindi sul discorso della democrazia interna io trovo che sia stato un modo per cautelare. No, neanche sulla posizione di Davide Casaleggio se per questo non è stato eletto come gli chiese il giornalista dell'Avanguardia. No, ma Davide Casaleggio è il titolare di una società che giustisce... Lei può dire che non ha voce in capitolo nelle decisioni del partito? Nelle decisioni politiche non mi risulta che abbia voce in capitolo. No, nessun tipo. Questo ne prendiamo atto perché è la prima volta che qualcuno dice che non ha... Cioè lei può dire che non ha voce in capitolo sulle decisioni di linea politica La linea politica è il capo politico che le sceglie e il garante è che è Beppe Grillo. Sono loro due e io lo riscontro. Davide Casaleggio non ha voce in capitolo. Va bene. Per quanto riguarda la linea politica... La linea politica e le scelte di selezione di classe... Grillo veramente ha fatto un passo indietro però magari ne parliamo dopo. Dopo, preglia. Dunque, no, sul governo, prego, doveva finire la risposta? No, sul governo io penso che qualsiasi movimento di rottura ma proprio se andiamo a vedere anche la storia la storia dell'Europa qualsiasi movimento di rottura passa da un momento di grande protesta, di insofferenza che poi noi abbiamo chiamato, è stato chiamato il momento del vaffa a un momento poi costruttivo cioè se vogliamo cambiare le cose se vogliamo modificare tutto quello che è successo in Italia in questi anni se vogliamo veramente portare fuori questo paese da una crisi che ormai dura da 20-25 anni e che la classe politica che abbiamo avuto finora non è mai riuscita a fare dobbiamo naturalmente proporre un programma che sia anche costruttivo Di Maio è il voto costruttivo, mettiamola così Esatto, dobbiamo proporre un programma costruttivo come lo è questo programma Io volevo chiedere, allora, intanto la supermedia a Lorenzo Pregliasco e poi andare da Professor Rossi per la questione delle coperture quello che lamentava di Battista, non l'ha visto Emilio Carelli o forse l'ha visto di là nel monitor a noi si chiedono le coperture, agli altri no veramente qui le chiediamo a tutti mi sembra anche tutti i giornali però senz'altro le chiediamo poi a Rossi quelle del Radio Cittadinanza Lorenzo, la supermedia Sì, buongiorno a tutti innanzitutto supermedia di questa settimana di Utrend per l'Agenzia Agi vediamo con il cartello 1 qual è la situazione nelle intenzioni di voto lista per lista nelle ultime due settimane Movimento 5 Stelle rimane primo partito 27,8% nella nostra supermedia c'è una lieve flessione nell'ultimo mese ma il Movimento 5 Stelle è stato forse il partito più stabile di tutti già dal 2017 Partito Democratico 23,1% ancora un lieve calo e siamo sui valori minimi per il PD dalla sua nascita Forza Italia 16,4% qui c'è un lieve aumento nell'ultimo mese che va però un po' a danno della Lega Lega con Salvini 13,1% meno 0,3% qui va segnalato che diciamo i fatti gli ultimi fatti post macerata non rientrano ancora nelle rilevazioni degli istituti Liberi Uguali Grasso 6,1% qui c'è una flessione devo dire Alessandra i trend degli ultimi giorni non sembrano positivissimi Per Liberi Uguali Fratelli d'Italia della Meloni 4,7% anche qui c'è un po' una flessione nell'ultimo mese e poi insomma gli altri centrosinista e centrodestra al momento nessuna delle altre liste sembra stabilmente sopra il 3% possiamo forse vedere il cartello 2 che ci restituisce il quadro delle coalizioni o aree diciamo principali centrodestra quindi l'Italia Lega Fratelli d'Italia e noi con l'Italia Udc 36,4% c'è una lieve flessione nell'ultimo mese rimane comunque diciamo di gran lunga la prima coalizione manca ancora qualcosina probabilmente per aspirare a una maggioranza assoluta dei seggi in virtù del Rosatellum centrosinistra cioè PD alleati ovviamente non PD più AP ma PD più Europa civica volare Lorenzin insieme 27% 5 stelle l'abbiamo già visto così come liberi e uguali quindi continua Alessandro questa situazione di un tripolarismo di tripolarismo e di nessuna maggioranza l'altra cosa che dicevi mi colpiva perché hai detto nessun effetto macerata per ora cioè non è stata rilevata invece la stampa pubblica dei dati di Piepoli che dice che ancora non c'è stato un effetto nel senso loro forse l'hanno rilevato pensi che sia che sia stato rilevato e che effettivamente non sposti i fatti di macerata a favore della Lega come qualcuno pensava qualcuno temeva io credo che si debba aspettare ancora qualche giorno per avere più rilevazioni svolte interamente post macerata per intenderci è plausibile che un qualche effetto ci sia dovessi come dire dare un'indicazione plausibilmente ne potrebbe risentire un po' di più Forza Italia quindi l'area moderata del centro-destra mentre sulla Lega non credo che abbia avuto diciamo un effetto negativo la vicenda soprattutto perché al di là dell'episodio ovviamente molto grave di macerata il tema immigrazione è tornato in testa ed è tornato diciamo davanti a tutti gli altri nel dibattito politico e questo avvantaggia sicuramente le forze che sono ritenute più credibili chiaro Emilio Carelli a Di Maio ai 5 Stelle prima sia nel diciamo è quello che viene riproverato da tutti gli avversari politici sul caso Macerata c'è stato molto silenzio il silenzio di Di Maio adesso lo lasciava in eredità questa domanda anche Stefano Fassina per voi un atteggiamento mentre è un dibattito molto sentito sono dei fatti molto gravi ci sono la questione delle manifestazioni il Movimento 5 Stelle non ha detto praticamente nulla perché? diciamo non è che non ha detto nulla perché poi c'è stata una presa di posizione sicuramente il Movimento condanna questo atto che è un atto di odio razziale palese quindi non è che c'è bisogno poi tutti i discorsi polemiche all'interno dei movimenti del PD liberi uguali eccetera sono temi che non ci interessano ci interessano i problemi della gente il problema è dell'immigrazione è un problema gravissimo no il problema dell'immigrazione però è d'accordo però il problema è dentro secondo noi è il modo in cui è stata affrontata l'immigrazione in questi anni che è un modo sbagliato un modo che penalizza l'Italia perché costringe l'Italia attraverso il regolamento di Dublino che è vero che è stato modificato recentemente ma di fatto costringe l'Italia ad accogliere tutti i migranti e poi di fatto restano qui un anno due tre anni e non sappiamo gestirli ha creato un business di cooperative e quindi qual è la proposta? la proposta nostra è che fermo restando il principio dell'accoglienza per chi ha diritto all'asilo politico fermo restando questo perché questo è un principio sattro santo ok allora fermo restando questo ci deve essere un coinvolgimento di tutta l'Europa in questo problema dell'immigrazione ma tutti dimostri sì però tutti dimostri ma nessuno lo fa vuol dire che allora e voi come fate a convincere l'Europa? questi immigrati appena arrivati nel giro di qualche settimana devono essere distribuiti su tutto il territorio europeo e non devono sempre stare con l'Italia ma se dice di no il problema ce l'avrebbe anche un governo ce lo stanno dicendo stanno dicendo di no in più tutti i paesi che si rifiutano come alcuni paesi dell'Esta hanno dichiarato di rifiutarsi e di accogliere devono avere delle sanzioni quindi i contributi europei che arrivano loro abbondanti e generosi per aiutare le loro economie però fin qui è la stessa posizione di diverse altre forze politiche senza differenze e non si capisce poi come ottenerla però io torno al caso Macerata la difenza è che loro sono stati al governo e non l'hanno però mai realizzato hanno firmato un accordo che consentiva a tutti come pensate di realizzarlo cioè quello che non è chiaro non è chiara proprio la strategia è la stessa cosa che dice Renzi Renzi aveva parlato di tagliare i fondi europei a quei paesi che dicono no all'accoglienza però finora evidentemente non ha trovato il modo di fare fronte comune forse con altri stati voi non fate parola strategicamente come arrivate a quel risultato sapete che insomma di fronte c'è un muro grande quanto tutta l'Europa in Europa al tavolo con gli altri paesi europei sostarremo questa questa ho capito ma questo è quello che fanno tutti senza ottenere un momento ma fanno tutti adesso no attenzione fanno tutti adesso ma negli ultimi vent'anni quando hanno gestito questo problema hanno firmato il regolamento di domenica che vi darebbe diversa forza politica al tavolo europeo qual è la cosa? l'elemento che noi lo imporremo questo lo chiederemo altrimenti e se dicono di no? altrimenti protesteremo contro l'Europa chiaramente sì ma ripeto sono le stesse cose che sono state come l'Europa e la casa la differenza però è questa che loro sono stati vent'anni al potere e potevano applicare e non firmare il regolamento di Dublino e invece l'hanno firmato e il regolamento di Dublino ha fatto sì che questi migranti adesso la Germania anche notizia di questi giorni la Germania non è più disponibile a rivederlo sta sulle colpe è sul futuro anche noi vogliamo no lo so però è facile dirlo voi non l'avete ancora fatto il problema è come farlo nel momento in cui altri hanno provato però io volevo chiedere ancora una cosa sulla manifestazione voi sareste andati a una manifestazione era giusto fare una manifestazione antirazzista? io penso che una manifestazione antirazzista è sempre giusta però capisco anche le perplessità del sindaco e tutti i problemi di opinione pubblica per cui capisco anche che ci sono questi problemi e quindi se fosse fatta una manifestazione nazionale a Roma ci andreste? perché no potremmo andare ci dipende poi allora il problema di queste manifestazioni che vengono spesso strumentalizzate dai partiti cioè se è un'occasione per strumentalizzare un evento e diventa un'occasione di campagna elettorale è chiaro che no non c'entrano niente nessun partito c'è in questa discussione però tutti hanno preso posizione è un'ultimissima cosa ma veramente di 30 secondi perché purtroppo non abbiamo tempo il rettito di cittadinanza Nicola Rossi è una misura sostenibile in quei termini quella cifra i 17 miliardi famosi di costo è un caso interessante perché il Movimento 5 Stelle ha indicato le coperture ora non sto a discutere se siano più o meno attendibili ma la sostanza dei fatti è che per due terzi sono maggiori imposte e per un terzo invece è un taglio di spesa è una cosa un'incetta che abbiamo visto per 40 anni in Italia più tasse più spesa più debito non è che ci ha portato molto lontano il rettito di cittadinanza è il cuore del programma 5 Stelle? diciamo che è uno dei punti qualificanti e comunque non parliamo come diceva il professore di aumento di tasse ma solamente di una ricollocazione per esempio delle tax expenditures che poi sono le agevolazioni fiscali che per i redditi molto alti sono però si traducono così sono agevolazioni consentite i redditi più alti che tra l'altro mettono l'Italia al secondo posto al mondo per agevolazioni fiscali e i redditi più alti quelle delle agevolazioni ma la ricaduta di giustizia sociale di riequilibrio di giustizia sociale ci dobbiamo fermare grazie Emilio Carelli speriamo di riaverlo ospite da noi grazie agli altri ospiti naturalmente Angela Mauro Nicola Rossi e Lorenzo Pregliasco Linea Coffee Break Andrea Pancani Omnibus torna domani buona giornata a tutti